Non ci voglio credere, ragazzi! Puoi surlare? No, è qui! Aspetta, calcolo il vento! Vai! Guarda, c'è anche sangue, ragazzi, quindi è proprio voluto! Brava! Botte, botte! No! Non male! No! Ciao ragazzi, qua a ZV, bentornati sul canale YouTube di Prime Video Sport, bentornati a Ruota Libera! Siamo pronti, abbiamo qui, come direbbe il nostro mitico Sandro Piccinini, un ospite eccezionale, ma non è la sola, perché ragazzi, sapete che ci sono campioni, ma anche campionesse a Ruota Libera! Quindi chiamo il benvenuto a Sofia Balzani! Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qua! Sofì, tu sei stata la prima su YouTube a portare il calcio femminile! Sì, è vero, incredibile, è vero! Per me è veramente un onore averti qua, ma sono sicuro che l'ospite che starà per arrivare ci renderà così, di sasso! Perché io te lo voglio fare indovinare, ti voglio dare tre indizi! Ha più di 300 gol in carriera, il suo idolo è Del Piero! Buon gusto, direi, ok! Terzo indizio, a novembre è stata nominata come calciatrice nella Hall of Fame del calcio italiano! Ok, beh, allora direi che è Cristiana Girelli! È proprio lei, Cristiana Girelli! Grazie, vi faccio volere un applauso perché abbiamo un'icona del calcio italiano! Che piacere avete qua! Piacere mio! Che piacere, veramente! Grazie, grazie! Sì, ce l'abbiamo, un abbraccio! Allora ragazze, in primis benvenute perché siamo a Ruota Libera con Prime Video Sport! Vi sfiderete con la nostra magica ruota! Allora, questa è la nostra magica ruota di A Ruota Libera! Voi vi dovrete sfidare, farete una volta a turno un piccolo spin, usciranno delle challenge e in base alle challenge andrete appunto a fare delle sfide al campo, dato che siete tutte e due delle calciatrici! Tra l'altro, ragazzi, che bello che abbiamo una calciatrice in attività! Ah, è la prima! Quindi un applauso anche per questo perché è la prima professionista in attività! Wow! Qua, sui canali di Prime Video Sport! Allora, chi vuole iniziare? Tu, lo so, io! Io? Sì! Sicura? Sì! Ora che... Io avrei lasciato l'onore a... Ti sta dando una responsabilità importante! Madonna, mi impegno! Sofì, primo spin! Vediamo cosa ti esce, dai! Dai, 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 speriamo bene! Hai un po' di pressione! Voglio qualcosa di interessante! Praticante! Precisione! Ok! Allora, ragazzi, andiamo a vedere... Devo scaldare! La precisione! Allora, ragazze, io sono qui con i nostri 5 secchielli magici! Avete 10 tiri a testa e, ovviamente, chi ne prende di più vince la prima sfida! Allora, Sofì, siccome hai girato tu, hai fatto lo spin, io direi di far partire Cri! Certo! Va bene? Prego! Si comincia! Ma facciamo un tiro a testa così alziamo un po' la suspense, metti un po' di pressione? Vai! Prego! Primo tiro! Occhio perché il rimbalzo vale, eh! Prego, prego! Occhio! Forse è un po' troppo bassa! Troppo bassa, ok! Allora, il primo tiro è andato, occhio perché ci prova Cristina Ginelli! Siamo ancora a 0-0! Cambia anche Sofì, attenzione perché... Vogliamo! C'era, eh! Quanti, quasi, quasi! 5 centimetri! Così è meglio, direi che così è meglio! Vai, Cri! Vai, Cri! Vogliamo il primo punto! Troppo! Troppo! Il rimbalzo forse non è una cosa... È una buona idea! Ce ne proviamo tutte! Terzo tiro anche per Sofia! No, è un rimbalzo! Mi state avvicinando tanto, eh! Mi state avvicinando tanto, eh! Da qua sembrano tutte dentro! Occhio perché... What? Mannaggia, oh! Guarda che io sono una rosicona, eh! Cioè... Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Surgare! No, è qui! Aspetta, calcolo il vento! Vai! Buono! Bella cagata! No! C'è un controllo! C'è! Divido! No! Però ci siamo, dai! Ci stiamo avvicinando, vai! Quanti ne ho ancora? Eh, guarda che si sta caricando lei, eh! Devi smorzarla subito! Occhio con... Cerca l'angolo! Non ci credo! Non ci credo! Cristiana Girelli! Vai, Cris! Va a cercare questo bidone che nessuno aveva cercato fino adesso! La palla purtroppo passa qui! Mamma mia! Vai! C'è un po' d'ansia! Vi sento che avete un po' di pressione! Non mi fa arrabbiare! Ce l'avete un po' di pressione! Ancora tutte e due provano... No, vabbè! ...il tiro speciale! Eh, questo viene una schifezza, quindi... È buono! No, dai, questo non lo... Questo non lo vuol contare! Sofia! Prende la rincorsa! No! Ci sei andato molto vicino, eh! Occhio! Occhio perché potrebbe... Oddio! Oh! Mi sono veramente spaventato qua! Guarda che forse così... Forse così qualcosa trovo! È una tecnica nuova! Dai! Dai, Sofia, dobbiamo fare meno uno! Torniamo alle origini! A meno uno! Piazzato! No, vabbè, questa va a cagare! L'ultimo! Concentrate, ragazze! Concentratissima! Vi giocate il primo punto di a ruota libera! Uff! Io sono in competitiva, eh! Guarda, guarda che... Pure io! Però... Quasi! No! Attenzione! Cristiana Girelli! Col tiro a giro! No! Non male! No! Questo merita! Sto entrando dritto! Eh? Sto entrando dritto! Ho preso qui! Che sfortuna! Però bravo! Sfortunate in gioco, fortunate in amore, no? Brava! Brava! Bravissimo, ragazzi! Zero a zero! Zero a zero i fumi che vengono! Torniamo in postazione con il pareggio che comunque come inizio ci sta! Dai! Non è male! Ce lo facciamo andare bene! Non è male, non è male! E adesso Cree! Perché te fai la scuola? Tocca a me! Dai, eh! Sai che giochino vorreste? Il bruco! Il bruco! Eh, vabbè! Aiaia! Eh, vabbè! Non dico niente! È divertente il bruco! Pronto? Prego! Credibile! Non si prego, non l'ha chiamata! Ma non l'ha chiamata! Ma sei incredibile! C'è tutta la mira che non ho avuto prima, l'ha avuto adesso! L'ha avuto ora! Ce l'abbiamo però! Ragazzi! State calmi perché adesso abbiamo il gioco del bruco! Io quando c'è il gioco del bruco chiedo sempre scusa perché mi imbarazza e mi fate sentire in colpa perché comunque questa cosa qui sì mi mette un po' in agitazione però è molto simpatica, cioè è una cosa abbastanza simpatica! Abbiamo voluta! Eh, esatto, l'hai preso tu tra l'altro, non puoi avere scuse! Praticamente io lancerò questo pallone in mezzo e poi dovrete fare il uno contro uno senza usare le gambe! Quindi rischiamo anche di scontrarci? No! Nel senso il pallone è qui, magari... Ah, in terra! No, vabbè ragazzi! Se dovesse cadere, poi magari uno potrebbe fare il col subito! Va bene! Senza usare i piedi! La mano del Dios va? No! No, vabbè le mani no, mettiamo indietro, mettiamo indietro! Siete già posizionate perfette! Io parto, vi chiedo scusa nuovamente, però il gioco è questo, quindi non prendetevela con me! Vai, via! Questa volta è più... Tensione! Tensione! Tensione al primo tiro! Questa volta è più... Tensione al primo tiro! Ci sta, ci sta, l'accetto! L'accetto! Questo è un gran gol, ma tra l'altro il colpo di testo è il tuo forte! Eh, infatti vedi prima, io non ho beccato anche un bidone! Cioè, questo è stato un avvitamento incredibile! Via! Lo si credo! Lo si credo! Incredibile! E' questa sfida di casa, è una bella sfida questa! Questa è una bellissima sfida! Via! All'immezzo! È in gioco, eh? È buona, eh? No, vabbè! Vai, Sofì! Eccola! Attenzione perché potrebbe approfittarne! Prende la mira! Occhio! La para! Vediamo... Madonna, le giardina! Già mi stavo immaginando tipo che l'alzano... Eeeh! Eccolo! Eccolo! Questa è pesantissima! 2-1! Di furbizia! Guarda, c'è anche sangue ragazzi, quindi è proprio voluto! Brava! Via! Aiuto! Con rimbalzo! Occhio! Il cucchiaio! Che non va! Fuori, fuori! Tutto pronto? Pronti! Attenzione! Aiuto! Oddio! Madonna, ma come fa? Ma comunque è clamorosa, eh? Si parte? Occhio! Per chiuderla! Che? Per chiuderla! Sfiora l'incro... Non ci credo! Via! Oddio! Oddio! Oddio, chi è? Madonna! Però è... È cambiata tattica? È... Tu intanto stai facendo anche i push-up? È un pull body! Palla in mezzo? L'anticipo! Eeeh! L'abbiamo muoviato! Pazzescono tutti, 3 a 1! E impazziamo che enorme ce ne... Ragazzi, è qua! Grazie per aver tolto la testa, se no qua ci schiaviamo! Una cosa che vogliono dire, complimenti! Complimenti Cri, complimenti Sopri! Grazie! Vabbè, è un golettino, l'abbiamo pronta a casa! Vuoi dire di aver fatto gole alla Girelli? Fate gole alla Girelli, infatti! Non è da tutti, eh! Non è da tutti! Facile! No! Tra l'altro nel suo punto comunque forte, che è il colpo di testa... No, no, è soddisfatta, è soddisfatta! Però è tanto di prendere a casa il primo punticino di ruota libera! Ma mancano ancora due spinnate, quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo a gire la ruota! Si va per la terza challenge! Punteggio di 1 a 0 per chi si ne ha Girelli! Sì! Però adesso, Sofì, tocca a te spinnare, quindi vediamo! Mi serve qualcosa in cui spacco! Indovina chi! Potrei, potrei, ok, ok! Eh ragazze, adesso non è una challenge calcistica coi piedi, ma con la testa! Vediamo quanto siete pronte! Prontissima! Eccoci qua! Tutto pronto per Indovina chi! Lì in fondo c'è una porticina e qua ci sono tre palloni! Per ogni gol che farete riceverete un indizio da parte mia! Sono sei domande! Sembra facile ma non lo è! Infatti, anche perché poi c'è la pressione, una sfiduola! Fida guerrita! Insomma, io vado lì e non faccio niente, come sempre! Cristiana Girelli, per il primo indizio! Vabbè! Facile! Questa è facile! Buono! Buono! 3 su 3! Devo darti tutti gli indizi, quindi vengo lì! Complimenti! 3 su 3! Primo tentativo! Primo indizio! È stato capitano della nazionale! È l'italiano ad aver segnato più gol su punizione con il club! E ha segnato 10 gol in una singola edizione della UCL, della Champions League! Alex? Come? E' vero? Oh! Ce l'abbiamo! Nonché è tuo idolo, tra l'altro! Ovvio! Per quello che ho indovinato! Primo punto! Che ci hai fatto? 3 su 3 e ne è pure indovinata! Complimenti! Grazie! Chapeau! Veramente! Sofì, poca pressione! No, adesso dai! Devo giusto eguagliarla! Ci sta! Pochissima pressione! No, vabbè! Non ci credo! Palo palo! Mi dispiace! No, va bene, va bene! L'ho certo! Palo palo! Ma va bene! Mi dispiace! Ok! Il primo indizio ce l'abbiamo! Per il secondo indizio! Brava! Palo palo un po'! Brava Sofì! Portami buone notizie! Vai, ti ascolto! Primo indizio! Te ne devo dare due! Sì! È stato una bandiera per il suo club! Difensore centrale! Ma ha giocato anche come terzino! È il terzo in posto! Allora, andrei su dei difensori pilastro! Ce ne ho due in ballo! Prende quello... Giorgio Chiellini! Brava! Siamo bravi, eh! Siamo bravi qua, ragazzi! Devi ripeterti! Vado! Di Mancino, tra l'altro, ragazzi! Piedevole così con una tranquillità! Primo indizio preso! Beh! Un indizio preso! Ragazzi! Faccio direttamente a dirle subito tutti e tre gli indizi! Puoi dirle già tutte! Occhio! Mi hai tirato! Guarda, me l'hai tirata, eh! Hai spostato la porticina! No, no, no! Non è vero! Due! Due indizi! Ha cambiato il modo di vedere il calcio nel suo paese! Ha segnato in cinque edizioni dei mondiali! Maschio o femmina? Femmina! Ah! Cinque edizioni dei mondiali vuol dire che ha giocato cinque mondiali! Vuol dire che... Tic-tac! Tic-tac! Marta! Bravo! O lei o formiga, ero indecisa in realtà, perché sono quelle che hanno giocato più mondiali di tutte! Questa non era facilissima! Io non ci avrei mai preso, sono sincera! Non era facilissima! Complimenti! Grazie! Complimenti, Chris! Due a uno! Sofì, prova ad andare per il tre! Proviamo! Tre su tre! E il primo ce l'abbiamo! Adesso fammi spostare la palla e non tirare! No, ferma! Perché fai dito che sposto la porta! Tutto ferma! Fermissima! Per il secondo indizio! Brava! Bene! Attenzione! L'ultimo tiro! Mia! Eh, non è troppo facile anche questa, però ci puoi arrivare! Nata Ruen, più di 250 gol in carriera, è stato il bomber straniero più prolifico della Juve! Cavolo, la Juve! Roba mia! Il bomber più prolifico della Juve! E il bomber straniero più... Allora... Tic Tac? Tu stai pensando già? Lei è già pronta! No, 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 li so, li so! Per i fierini! Ti giuro, li so! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! Eh... Tic Tac? Non è... Non è... Non è quello pelato... Tresighe! Brava! Uuuuuh! Uuuuuh! Brava, Sofì! Volevo dire Zidane, ma... Cos'è? Cos'è Ruen? Ruen è la città dove è nato David Tresighe! Tresigol! Perfetto! C'è questa francese! Cristiana Girelli! Ah! Era meglio piede... E' una piede d'edera, povera! Ma all'altro! Aspetta, aspetta! Buono! Ce l'abbiamo il primo indizio! Per il secondo... Vai! Hai rischiato, eh! Sì, piace, piace! L'hai toffiata questa! Due indizi! Cri! Due indizi! Brava! Sempre palo prendi! Palo! Sempre palo! Palo salva! Allora, primo indizio! E già qua ti potrebbe aiutare! Perché ha vinto il pallone d'oro! Ed il suo soprannome era Raffaello! Ci sta pensando! Italiano, ovviamente! Italiano, sì! Pallone d'oro italiano! Sì! Raffaello Baggio! Accendiamo? Quanto mi sento presentatore vero! Vabbè, mi hai preso un altro idolo che giocava a bere... E' lui? Eh, Baggio! Grazie, Baggio! Che fai! Grande, Cri! Il rincodino era perfetto! Eh, non me l'hanno messo, guarda, per entrare a comprare il video! Oh, che bello! Ragione! Adesso si va all'ultima! Per un ipotetico pareggio, cioè, si decreda tutto, eh, ragazzi! Sì, sì! Vai! Andiamo! Allora, come minimo, visto che l'hai fatto quasi tutti di mancino, devo farlo anch'io, perché... Vai, giusto! Per equiparare! Eccolo! Uno! Non vedi! Primo indizio preso! Per il secondo indizio... Due! Preso! Dai, tre! Tre su tre? Palo gol questa volta! Palo gol! Bravissima! Questa è l'ultima domanda, Sofì! Potresti pareggiare, Cristiana? Primo indizio! Vai! Spagnola, centrocampista, anche lei ha vinto il pallone d'oro! Non sono informatissimissima sulle donne, però l'avevo guardata, secondo me ho capito chi è, l'ha vinto da poco il pallone d'oro! Eh, per questo! Eh, cavolo, lo sa, non so chi è! Mi deve venire, mi deve venire! Mi deve venire il nome? Sì! Lei lo sa sicuro, quindi io non posso sbagliare! Ti giuro che mi è comparsa anche prima su Instagram! Cinque! Quattro! Tre! Tipo, Alexia! Uno! Ah, attenzione perché la palla passa! Non è Alexia! Ah, Cristiana Girardi che tra l'altro la sta guardando malissimo! No! No, se non è Alexia è bombati! Eccolo! Hai un altro punto! Ti porti a due! Grande, grande, grande equilibrio! Bellissima sfida comunque, complimenti a tutte e due! Vabbè! Ti ha fregato! Ma ha fregato sì! Fa caldo, ma perché la sfida sta entrando nel clou, nell'ultima spinnata! Il punteggio per adesso ti prevede avanti di due punti! Ah, cavolo! Dopo il pareggio, dopo la X abbiamo avuto due vittorie incredibili, soffertissime! All'ultimo! All'ultimo! E adesso l'ultima spinnata! Dai, dai, dai! Una cosa bellina! Oh! Oh, attenzione! Perché questa è la challenge misteriosa, ragazzi! Quella che va ai due punti, eh! Ma dovuti? Potrebbe ripartare tutto quanto! Ok! Va bene! Questa, ragazzi, è la challenge misteriosa che varia da ospite ad ospite! Ok! E siccome oggi siamo qua con Cristina Girelli, abbiamo la T... Cioè, salutiamo veramente la regia di Prevideosport perché abbiamo... Mi viene proprio la Tiro a Girelli! Bella! Ce l'abbiamo, bella! Guardate che bello il nostro fantastico campo! La vostra fantastica porta, perché come sempre io non devo fare niente, è bellissimo! E come potete vedere ci sono dei palloncini lì, sotto al 7! Proprio un punto facile, c'è la ragnatela! Sì, va tolta! Scoppiamo questo palloncino! E poi ci sono quei bidoni per il rasoterra, per il tapin! Ragazzi, vi leggo però i punteggi, perché comunque ogni cosa vale un punto! Ok! Il tiro fuori, ovviamente, è vero! Il gol semplice, vale un punto! Ok! I secchielli in basso, due punti! Interessante! La traversa, quindi c'è anche lei! Vale tre punti e poi il palloncino nel 7, quattro punti! Avete dieci tiri a testa, però non li parete di fila, uno contro uno! Qua, siccome l'ultima sfida è valuto i punti, ce la giochiamo come se fosse i rigori! Cosa vuoi puntare? Ti dico! Ti chiamiamola! Le traverse, io di solito prendo le traverse! Ah! Quindi, punto quelle! Quanto è la traversa? Tre! Tre! Ma al che vado i bidoncini lì? Sono sempre una valda! I pali non valgono, eh! I pali, la regia, non vale o non gli piace! Vabbè, io vado lì! Vado, eh! Con la mia traversa! Io sto in porte, eh! Vai, proviamo! Primo tiro, Sofia, ti prendi un punto, ti prendi un punto! Vabbè, devo calibrare il pallone prima! Non vale, applausi! Bidoncino! Quasi! Ok, un punto, 1-1! Dobbiamo calibrare i piedi! Vai, Sofì! Bella! No! Vicinissima! Intanto... Peccato! Un altro punto! La va invece a piazzare! Cri! E si prende comunque tranquilla il punto del pareggio, 2-2! No, no, adesso punto al bidone là! Vai! Con la chiamata! Bello! Aia! Quasi, Sofì! Occhio però! Zero punti a sto giro! Sereni! Potrebbe essere il primo sorpasso! Ed ecco il primo sorpasso! Vabbè! Nooo! Se devo fare 10 punti nella porta preferisco sbagliarne qualcuno, guarda! Brava! Uuuuh! Bello questo! Prova la traversa! Di sinistro, tra l'altro! Ah! Punto! Ma prendila! Comunque c'è andate vicinissimo, eh! Tutte lì, eh sì, ma adesso la prendo! Traversa! Qua! 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 Buono, va bene! Si prende il punto! Si porta comunque in vantaggio, 8 a 7! Dai proviamo di nuovo! Settimo tiro! Va a cercare ancora la traversa! Madonna! A 2 millimetri! Di pochissimo! Oh! Il bidone! Cerca l'angolo! Tocca ma deve entrare! Ci sta! Deve entrare, quindi vale comunque un punto, 9 a 7! Fammi la girella! Ti rifaccio l'altro, a giro! Ah, la chiudi? Vai, si! Palocino! Brava! Eh, bello però, eh! Un po' più di giro! Troppo, troppo! Ufff! Ufff! 10,8! Vai! Penultimo! Ce la posso fare! Penultimo, attenzione! Grande sciamolana morbida! Va a cercare attraversa, ci sta, perché comunque deveva recuperare! No, no! Connocialance! Connocialance! Non ci credo! Ultimi tiri a testa, punteggio per adesso di 10,8 per la girelli! Sofia! Devo prendere qualcosa di bello! Devi prendere il palloncino! Lo prendo! Il palloncino! Attenzione! Niente! No! Madonna! Che rischio! Che brutto! Però la parla è entrata, eh! Sono delusa! Attenzione! Ah! Oddio! Quasi! Oddio! Bello! Hai avuto qua! Comunque! E arriva la vittoria! Bellissima! Brava! Ragazze! Siamo giunte al termine di questa meravigliosa sfida! Abbiamo una vincitrice! Perché Cristiana Girelli si porta con 3 punti di vantaggio! A casa l'episodio di Ruota Libera! Bravissima! Grandissima! Tra l'altro! Oh! Bellissimo gesto! Tra l'altro! Cosa ha vinto? Il premio dov'è? Dov'è il premio? Che i ragazzi di Premio 2 Sport ci daranno dopo! Ah! Ovvio! Allora! Ragazze! Io vi ringrazio nuovamente! Vi saluto! Ricordo a tutti i nostri telespettatori di iscriversi al canale YouTube di Prime Video Sport perché usciranno ancora altri episodi di A Ruota Libera! Sofia Balzani! Cristiana Girelli! ZW Jackson! A Ruota Libera! Ciao a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti